Lacey Fletcher era letteralmente incollata e fusa col suo divano. Era stata abbandonata lì, affamata, nuda, ricoperta dai suoi stessi escrementi. Non era in grado di mangiare da sola, doveva essere aiutata e imboccata, altrimenti non sarebbe riuscita a nutrirsi. Il suo corpo stava morendo, mentre lei era ancora in vita. C'erano parti del suo corpo in necrosi, letteralmente dei buchi nella sua pelle e nella sua carne, che permettevano di vedere al suo interno, fino alle ossa. Era viva, ma le larve, i bigattini, avevano infestato il suo corpo. Mangiavano la sua carne morta e strisciavano indisturbati su di lei e dentro di lei. Tutto intorno a Lacey non c'erano altro che escrementi. Per 12 anni, Lacey era rimasta ferma su quel divano. E quando questo caso è venuto alla luce, la ragazza nello stomaco aveva solo escrementi e imbottitura del divano. Ma come sono finiti lì? Li ha mangiati volontariamente? L'hanno obbligata a farlo? Non lo sappiamo e purtroppo tantissime altre domande ancora oggi non hanno una risposta certa. Ci sono alcune teorie che provano a spiegare cos'è davvero successo alla povera Lacey Fletcher e ne parleremo più avanti nel video. Sappiate solo che l'unica cosa certa è che Lacey è morta nella maniera più brutale, dolorosa e triste che possa esistere. Amici miei, buonasera. Sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi, come penso abbiate già capito, voglio raccontarvi una storia che negli ultimi anni ha fatto uno scalpore immenso per via delle condizioni in cui è stata ritrovata questa ragazza. Sono state dette tante cose riguardo questa vicenda, molte di queste ipotesi si sono poi rivelate però errate o inesatte. Per questo oggi cerchiamo di fare chiarezza sul caso di Lacey Fletcher, la ragazza fusa con il suo divano. Prima però ragazzi voglio svelarvi una cosa che vi ho tenuto segreta per mesi, ok? Stavo lavorando questa cosa da tantissimo tempo e oddio non vedevo l'ora di parlarvene. Allora, ho scritto un libro. Ebbene sì, tra un video e l'altro sono riuscito finalmente a realizzare una cosa che mi chiedete da tanto tempo e vi giuro sono felicissimo, ho sempre voluto scrivere un libro del genere, sono troppo soddisfatto di come è venuto e sono sicuro che vi piacerà un sacco. Si chiama Quando la luce si spegne, appunto. Qui dentro, oddio che bello, qui dentro vi racconto dieci storie agghiaccianti, storie che provengono sia dal nostro paese sia dall'estero, tutte collegate in una maniera unica. Vi descriverò delle vicende spaventose, incredibilmente spaventose, al limite tra fantasia e realtà, un po' come quella di oggi, che sono sicuro vi faranno davvero venire i brividi. E lo farò facendovi entrare nella mia mente, ve le racconterò attraverso i miei occhi perché ognuna di queste storie, in qualche modo, ha avuto un impatto decisivo durante la mia crescita e sulla mia vita. Sono a tutti gli effetti il motivo per cui oggi vi racconto queste cose brutte sui social e il motivo che mi ha spinto ad appassionarmi tantissimo all'horror e al true crime. Dico che sono sicuro che vi piaceranno e vi faranno venire i brividi perché sono semplicemente vicende che hanno saputo catturare la curiosità di un piccolo Andrew e che hanno acceso in lui una passione che, come un fuoco interiore, non si è mai spenta e ancora adesso arde. Ecco, in questo libro ci sono io. C'è il piccolo Andrew, che nessuno ascoltava, quel bimbo un po' strano, un po' sulle sue, a cui piacevano cose diverse rispetto agli altri. Quel bambino, oggi, grazie a voi, ha una voce e io ve lo voglio presentare. Voglio presentare i suoi racconti, le cose che lo hanno sempre affascinato e incuriosito. In questo libro ci sono io e ci sono le mie paure, che potrete rivivere in prima persona attraverso i miei occhi. Quando la luce si spegne è già disponibile in tutti gli store digitali, quindi vi lascio il link nella descrizione, e anche in tutte le librerie italiane. Oddio quanto è bello dirlo, sono troppo emozionato. Ovviamente vi dirò qualsiasi cosa, qualsiasi informazione riguardo al libro qui sotto nei commenti, se avete domande fatemele pure, e vi aggiornerò su eventi, cose che faremo, se le faremo, ovviamente su Instagram, quindi passate a seguirmi anche lì, se volete, così rimanete aggiornati anche su questa cosa qui. Cioè, vi rendete conto? Grazie, questo è grazie a voi. Non lo so, mi viene quasi da piangere. È bellissimo. Una cosa che volevo dirvi molto velocemente, poi giuro iniziamo con il caso di oggi. In questo libro ci sono delle illustrazioni bellissime realizzate da un artista che, appunto per ogni capitolo, ha realizzato un'illustrazione ad hoc, volendo ve ne posso spoilerare una, come questa qui. Ma non vi dico altro. Ogni capitolo ha un'illustrazione del genere fatta, appunto, specificatamente per il capitolo, e è stata una cosa bellissima mettere insieme tante menti per realizzare questo progetto e tanti artisti. Sono veramente contento che sia finalmente disponibile ovunque. Mi raccomando, ragazzi, se lo prendete, taggatemi in una storia, fatemi, non lo so, scrivetemi, ditemi cosa ne pensate, se vi è piaciuto. Spero davvero che vi piacerà tantissimo, perché a me è piaciuto tantissimo scriverlo. E le storie che vi ho raccontato lì sono davvero belle e interessanti, quindi non vedo l'ora di sapere cosa ne pensate voi. Oggi più di sempre, cioè... Oggi proprio non vedo l'ora di sapere cosa ne pensate. Se lo trovate nelle librerie, fate la foto, mandatemela, perché, mio Dio, non mi sembra vero. Detto tutto questo, ragazzi, grazie infinite per l'attenzione e cominciamo con i file di oggi. È il 3 gennaio del 2022 e il medico legale di una cittadina nel Louisiana, il dottor Ewell Beacom, è nella sua auto che si dirige verso la casa dei Fletcher, coppia molto conosciuta e rispettata nella comunità locale. Si sta dirigendo lì perché poco prima una chiamata al 911 era partita proprio da quell'abitazione. Era stata Sheila Fletcher a chiamare, dicendo che sua figlia Lacey non respirava più. Questo è probabilmente tutto ciò che sapeva il medico legale mentre si dirigeva lì. Quindi, mentre attraversa il vialetto e si fa strada verso la casa a due piani dei Fletcher, si prepara psicologicamente per affrontare l'ennesimo possibile decesso della sua carriera. Una cosa straziante, certo, ma si può dire che ormai c'era abituato. Peccato però che quello che avrebbe trovato in casa sarebbe stato totalmente diverso da ciò che vedeva di solito e sarebbe rimasto impresso nella sua mente in maniera nitida e dettagliata. Quando il dottor Beacom scende dall'auto e si fa strada verso la casa, sembra tutto assolutamente normale, ma non appena apre la porta d'ingresso viene colpito da qualcosa di invisibile, ma estremamente potente e presente, si poteva proprio sentire e percepire. Viene colpito da un odore, un odore pungente, fortissimo, che quasi non gli permette di respirare. E tenete a mente, l'uomo aveva già sentito più volte odori molto forti, come quello della morte, della putrefazione. Ma questo non era solo morte. Era un mix di escrementi, urina, morte, decomposizione, tutto rimasto lì per chissà quanto tempo a fermentare e fermentare. Beacom non riesce neanche a trattenere il respiro perché la puzza è talmente pungente da essere percepita comunque. Una volta entrato nell'abitazione, l'uomo si rende conto subito che c'è qualcosa di strano, qualcosa di fuori posto. È tutto in ordine, relativamente pulito, c'è qualche oggetto sparso sui tavoli e gli scaffali, ma niente di troppo inusuale o disordinato. È esattamente una casa normale in cui vivono delle persone. Oltre vabbè, alla puzza pestilenziale e ad un particolare che sembra non centrare nulla in quell'ambiente tenuto comunque così bene. Beacom quasi istantaneamente posa subito lo sguardo verso la sala, più precisamente su un divano di pelle marrone. Era quella, la fonte dell'odore in ausabondo. L'uomo in quel momento può quasi vedere l'alone invisibile di quella puzza tremenda provenire dal divano. Una puzza che da lì si era già propagata e aveva infestato tutta la casa impregnando i muri e l'arredamento. Una scena che mi viene da vomitare solo a descrivere, vi giuro. Anche perché c'era un motivo se quel divano puzzava così tanto. Sembrava che si stesse come sciogliendo. Era impregnato di urine e feci che con il tempo lo avevano corroso, attraversandolo e scavandolo fino a passarli attraverso e colare per terra. Quella poltiglia si era fatta strada attraverso il divano e gocciolava sul pavimento sotto di esso dove si era ammassata. Sembrava che stesse per corrodere anche il pavimento, tanto era il tempo in cui era rimasta lì. Cioè la casa era pulita e in ordine, tranne lì. Solo il divano era abbandonato in quelle condizioni nauseanti. Nessuno lo puliva da anni. Era come se fosse appunto una casa normale, ma nella quale qualcuno ogni giorno andava a pisciare e cagare sul divano per poi lasciare tutto di amarcire. Giusto per farvi capire e darvi un'idea. Il divano, poi, si trovava a circa mezzo metro di distanza da una delle pareti della casa. E il muro, nonostante il mezzo metro di distanza, era umido. Sembrava si fossero formate delle gocce di condensa causate dai vapori e dai liquidi di quel divano. Si stava proprio fondendo, marcendo e collassando su se stesso. Era una cosa stranissima anche perché quella era la sala della casa di due persone molto rispettate e conosciute nella cittadina. Non aveva senso. In credulo, il dottor Beacom si avvicina a quel divano e scopre la ragazza che stava cercando. Lì, non sopra, ma praticamente dentro il divano, c'era Lacey Fletcher. Si trovava dentro un buco enorme nei cuscini di pelle, letteralmente fusa nel sofà. Era sdraiata su un lato, con le gambe incrociate, gli occhi e la bocca spalancati. Al dottor Beacom sembra di essere dentro un film dell'orrore. Anzi, non aveva visto niente del genere neanche in quei film. Lacey era completamente nuda, fatta eccezione per una magliettina che però non la copriva, era tirata sopra il suo seno. E tenete a mente questi dettagli perché sono molto sospetti. Il dottor Beacom, comunque disgustato e incredulo, riesce anche a vedere le ossa della donna, specialmente nella parte inferiore del suo corpo, nelle gambe. Aveva dei buchi giganti nella carne delle gambe, buchi che arrivavano fino all'osso ed erano infestati da larve che la stavano mangiando da quando ancora era in vita. Immaginate quindi che lei, viva, poteva guardare giù e vedere che gli insetti la stavano divorando. Ma aveva anche molte larve tra i capelli e tante altre strisciavano su tutto il resto del suo corpo. Oltre a questo, era anche praticamente ricoperta di feci, specialmente vicino alle parti intime, ma anche in faccia, nei capelli e in bocca. Le aveva mangiate, o comunque qualcuno l'aveva obbligata a farlo, questo non lo sappiamo. I braccioli del divano erano ricoperti di graffi. Altro dettaglio molto importante perché secondo me indica che in qualche modo lei si è lottato, magari in preda a dolori atroci. Anche perché non si stava decomponendo a causa della morte, si stava decomponendo da viva. E secondo le ricostruzioni, era lì, bloccata in quel divano, da circa 12 anni. 12 anni in cui non si è praticamente mossa da lì, in cui non poteva muoversi, né mangiare da sola o andare in bagno. E a quanto pare neanche ci andava in bagno, faceva tutto lì. Sicuramente non da subito, cioè non da 12 anni prima, ma evidentemente da tantissimo tempo, troppo tempo. Abbastanza per creare la situazione disgustosa che vi ho descritto. È abbastanza da permettere che Lacy, ancora in vita, cominciasse letteralmente a decomporsi. Era stata comunque tenuta in vita per tutto quel tempo, probabilmente soffrendo in una maniera inimmaginabile, sia fisicamente che mentalmente. Perché come può essere? Avere la consapevolezza di essere praticamente un cadavere, immobile, in un posto marcio tra i propri escrementi, è davvero una situazione inimmaginabile, anche perché tutto quello che vi ho detto è accaduto appunto quando era in vita. Questa cosa è sconvolgente. Quando il dottor Bicam è arrivato lì, Lacy era morta da pochissimo tempo. Quindi era in quelle condizioni da viva. E oltre ad essere una cosa schifosa, è anche davvero molto triste. E in quel momento, i suoi genitori, quelli con cui viveva in quella casa, quelli che avrebbero dovuto prendersi cura di lei, sono lì, increduli, che non hanno alcuna spiegazione da dare al dottor Bicam. Queste sono le esatte parole dell'uomo in una dichiarazione ai media. Quando entravi, la casa puzzava. Puzzava di fogna o di fossa settica. E anche di morte. Non ho mai sentito un odore del genere in vita mia. Ho avuto a che fare con corpi in decomposizione. Ho avuto a che fare con ogni sorta di morte, degrado, qualunque cosa, ma non ho mai sperimentato niente del genere in tutta la mia vita. Clay e Sheila Fletcher erano lì. Clay rimase lì, privo di emozioni. La mamma invece aveva la testa tra le ginocchia. Ho visto una lacrima o due. A sinistra c'era il soggiorno dove si trovava Lacy. Non ho mai visto un omicidio come questo. Non ho mai visto un individuo, un essere umano, letteralmente torturato e lasciato morire mentre era vivo. Non l'ho mai visto in vita mia. Ho visto corpi decomposti di persone che annegavano, ritrovando il corpo una settimana dopo. E quella è una cosa. Ma Lacy non era decomposta. È marcita nel suo stesso corpo, in quel buco, in quella fogna nel divano. Lacy è stata dichiarata morta alle 15.07 del 3 gennaio del 2022. Ma è probabile che fosse deceduta almeno 24-48 ore prima. Nelle sue ultime ore di vita, le persone stavano festeggiando l'arrivo del nuovo anno. Mentre lei era sola, fusa su quel divano tra i suoi escrementi. Il ritrovamento della ragazza ha subito fatto uno scalpore enorme. Tanto che la notizia si è diffusa a macchia d'olio in tutto il mondo. Com'era possibile che una persona fosse in quelle condizioni? Cos'era successo davvero? Perché i genitori non l'hanno aiutata? Oppure non è che i genitori c'entravano qualcosa? Non è che la tenevano prigioniera? Queste e tantissime altre domande si fanno velocemente spazio nella mente di milioni di persone. Purtroppo però in quel momento nessuna di queste ha una risposta. Anche perché i genitori di Lacy non parlano. Nelle settimane e nei mesi a venire, si è poi diffusa la notizia proprio a livello globale. Ne hanno parlato testate giornalistiche importantissime, content creator, persone comuni che volevano comunque dire la loro sulla vicenda. Ma in quel periodo si diceva che Lacy soffrisse di una rara patologia che almeno in parte avrebbe spiegato le condizioni disgustose e disastrose in cui si trovava la sindrome del locked in. Si tratta di una condizione rarissima che colpisce meno di una persona su un milione. La maggior parte dei pazienti che ne soffre sono stati vittima di un ictus o di un trauma cerebrale ma a seguito dei quali è risultato lo stato che sto per descrivervi. Questa sindrome, sebbene rarissima, è penso una delle più spaventose che possano esistere perché consiste proprio in ciò che suggerisce il nome locked in, chiuso dentro. Se ne soffri, sei letteralmente chiuso dentro il tuo cervello. Sei sveglio, cosciente. La tua mente scorre normalmente, forse addirittura di più del normale per via della confusione iniziale che puoi provare in quello stato. E mentre la tua mente scorre e tu senti e provi tutto, il tuo corpo non risponde. Se sei fortunato riesci a muovere a malapena le pupille, riuscendo a vedere solo in base a quanto puoi muovere gli occhi. Ma tutto il resto è fermo e non risponde. Provi a parlare ma dalla tua bocca non esce nulla. Sembra come uno di quegli incubi in cui vuoi fare qualcosa ma semplicemente il tuo corpo non eseguisce quel qualcosa. Non risponde. Peccato però che non è un incubo. Sei sveglio. Ma non puoi muovere un dito. Non riesci nemmeno ad ingogliare la tua stessa saliva e inizi a sbavare perché neanche i tuoi riflessi funzionano. Intanto senti davvero tutto. Dal dolore fisico causato dal trauma che ti ha portato in quelle condizioni al dolore emotivo. Perché è probabile che i medici siano lì nella stanza con te a comunicare ai tuoi familiari che le speranze che tu possa sopravvivere sono pochissime. Il 90% delle persone muoiono entro i primi 4 mesi di lockdown. I medici riescono a capire che un paziente si trova in quella condizione ma non sempre. Anzi in Italia per esempio ho letto che nel 2011 ci sarebbero dovute essere 600 persone affette dalla sindrome stando a guardare appunto le probabilità di incidenza ma solo a 30 era stata diagnosticata. E in ogni caso anche se la condizione viene individuata quasi sempre non è trattabile e non se ne esce. È davvero terrificante perché sei letteralmente bloccato nel tuo cervello mentre magari i tuoi cari sono lì che ti parlano e tu vuoi rispondere ma non riesci non puoi. Su internet si trovano delle testimonianze di persone sopravvissute a lockdown e sono davvero strazianti. Vi invito a leggerle anzi se mi ricordo vi metto qualche link nella descrizione così potete andare a dare un'occhiata. Io ne ho lette qualcuna veramente tristissime. Purtroppo non ho trovato testimonianze in italiano per cui vi metterò i link in inglese ma molti browser hanno comunque l'opzione di tradurre il testo in italiano per cui li potete leggere tranquillamente. Vi anticipo che sono esperienze davvero molto toccanti. Comunque nel 2022 in tantissimi articoli online si diceva che anche Lacey Fletcher soffrisse di questa sindrome e sarebbe rimasta in quelle condizioni viva per 12 anni sul divano. In effetti questo avrebbe risposto a molte delle domande sul caso ma ne avrebbe sollevate tante altre. Nelle condizioni in cui era lei una persona con la sindrome del lockdown non può sopravvivere non aveva macchinari a tenerla in vita non era attaccata ad una flebo riusciva a deglutire e il medico legale infatti ha poi smentito tutto. Lacey Fletcher non soffriva della sindrome del lockdown ma allora perché? Perché cavolo una ragazza capace di muoversi dovrebbe rimanere ferma sul divano a marcire letteralmente fino alla morte? Scartando l'ipotesi della sindrome vengono in mente solo cose molto più sinistre. Magari i genitori la tenevano legata? Segregata? Poteva davvero muoversi o era stata immobilizzata da qualcuno? Che cavolo era successo per 12 anni nella casa dei Fletcher? La cittadina in cui vivevano i Fletcher si chiama Slaughter e si trova in Louisiana. Un nome molto particolare visto che significa macello. Comunque è un paesino molto molto piccolo con meno di 1000 abitanti ma non come i paesini che ci sono qua perché lì si può vivere tranquillamente senza potenzialmente mai lasciare il paese. Infatti ci sono scuole farmacie negozi c'è proprio tutto l'occorrente. Spesso qui invece nei paesini si è costretti a guidare ogni tanto per raggiungere la città più vicina perché molte cose semplicemente non ci sono ci sta ma lì non è così. Lì ci sono addirittura delle strutture di riabilitazione per anziani. Davvero potresti vivere lì senza sentire mai il bisogno di andare in città. Inoltre sebbene il paese sia molto piccolo le case sono tutte molto distanti l'una dall'altra permettendo di avere comunque tutta la praioa sì che si desidera. La comunità del paesino poi è molto unita quando uno degli abitanti ha un problema diventa un problema di tutti e tutti si mobilitano per risolverlo. Se qualcuno ha bisogno di aiuto i residenti sono sempre pronti a darlo. A Slaughter hanno anche un piccolo governo locale il comune praticamente i cui membri sono stati votati direttamente dai residenti. Queste persone in questo piccolo governo locale potremmo chiamarle consiglieri e ricoprono il ruolo delle persone a cui rivolgersi per qualsiasi questione legata alla comunità e al paesino. Ma proprio qualsiasi cosa anche problemi personali. Si va da un consigliere e questo cerca in tutti i modi di aiutarti. Bello eh? E indovinate chi era uno di questi consiglieri del comune? Sheila la madre di Lacey. Anzi lei era forse la figura più importante e fidata per i cittadini. Oltre ad essere consigliere era anche vice sindaco e davvero tutti a Slaughter si affidavano a lei per i più svariati motivi. Anche Clay il padre di Lacey era un personaggio molto noto nella comunità. Lavorava per un'organizzazione no profit chiamata Baton Rouge Civil War Roundtable un'associazione che organizza eventi e gite in siti storici della zona. Insomma Clay e Sheila erano membri rispettati della cittadina un vero e proprio punto di riferimento. Frequentavano la chiesa locale erano sempre pronti ad aiutare tutti mettevano gli altri prima di se stessi o almeno questo secondo le dichiarazioni dei cittadini. I loro amici però molti di loro neanche sapevano che i due avessero una figlia. Lo sono venuti a sapere in seguito a quel macabro ritrovamento il 3 gennaio del 2022. C'erano però ovviamente delle persone nel paesino che si ricordavano di Lacey i suoi ex compagni di scuola per esempio o le persone che la vedevano correre e allenarsi per la strada quando era più giovane. Tutti però pensavano semplicemente che come molti giovani di Slaughter Lacey fosse cresciuta avesse magari trovato un marito e si fosse trasferita in una città nei dintorni. Coloro che sapevano dell'esistenza di Lacey la ricordano come una ragazzina molto amichevole di buona compagnia e che non faceva fatica ad ambientarsi né a scuola né in altri contesti sociali. Una giovane con vari interessi alcuni anche piuttosto particolari. Come molte persone anche adulte Lacey adorava qualsiasi cosa riguardante la Disney. I film della casa produttrice erano i suoi preferiti era come se fossero il suo posto sicuro e felice e ci si rifugiava anche da adolescente. Le piacevano poi anche la musica country e Mariah Carey e amava fare attività fisica le piacevano in particolare il bowling e la palavolo. Ma come vi accennavo prima spesso andava a correre vicino a casa sua per tenersi in forma. La parola con cui tutti la descrivono è dolce. Lacey era semplicemente dolcissima una ragazzina felice a cui piaceva la vita. Quando era piccola non si sa con l'esattezza l'anno a Lacey era stato diagnosticato l'autismo ma ancora una volta non si sanno altri particolari. Però mi sembra giusto ricordare che l'autismo è uno spettro con diverse caratteristiche ci sono tanti tipi di questa neurodivergenza e ognuno ha le sue caratteristiche. Questo per dirvi che le persone autistiche non sono tutte uguali anzi possono essere molto diverse tra loro e avere caratteristiche del tutto diverse o addirittura opposte da persona a persona. Si tratta semplicemente di un modo diverso di vedere e percepire la realtà il mondo che differisce di caso in caso per cui non si può generalizzare. A Lacey era stato diagnosticato l'autismo non si sa di che tipo ma i suoi genitori all'epoca ne parlavano dicendo semplicemente che la ragazza era solo molto silenziosa che non le piaceva socializzare e stare con le altre persone ma i suoi amici di scuola avevano un'esperienza totalmente diversa con lei. Come vi dicevo con loro era gioiosa dolce attiva le piaceva proprio stare con loro e in compagnia in generale di persone. In più amava le nuove esperienze e accoglieva di buon grado dei cambiamenti nella sua routine insomma tutto il contrario di quanto i genitori dicevano in giro. Oltre a questo sempre loro sembrano un po' confusi riguardo la sua diagnosi motivo per cui non sappiamo per certo tanti dettagli sulla condizione di Lacey. I due infatti a volte affermavano che Lacey avesse la sindrome di Asperger mentre altre volte descrivevano il suo autismo come lieve parole loro e altre volte ancora come grave proprio le loro parole definivano così che vuol dire niente. Inoltre ricordate il dottor Bicam ecco lui quando Lacey era piccola era il medico di base della famiglia quindi li conosceva bene e da anni ma nel 2022 era appunto uno di quelli che pensava che Lacey si fosse semplicemente trasferita. Comunque dicevo lui all'epoca ha descritto la diagnosi di Lacey come cito autismo grave e ansia sociale ma ancora una volta questo non corrisponde alle dichiarazioni dei suoi amici la ragazza infatti sembrava solo avere degli interessi particolari che possono differire dai classici interessi di un adolescente uno dei suoi vecchi compagni di classe ecoetanei di nome Robert Blades Jr nel 2022 ha dichiarato al Daily Mail che erano passati circa 15 anni dall'ultima volta che aveva visto Lacey ha detto che appunto la ragazza aveva interessi unici ma niente che potesse far pensare ad ansia sociale o condizioni gravi legate all'autismo ha anzi dichiarato che Lacey era intelligente molto intelligente ma semplicemente non matura come quelli della sua età queste le sue parole ha poi detto che a 17-18 anni lei amava i film della Disney e la musica country e invitava lui ed altri amici a casa per guardare questi film fine niente di troppo strano o preoccupante ed è per questo che i suoi amici e compagni rimangono sconvolti quando a soli 16 anni Lacey viene ritirata da scuola per cominciare un percorso di homeschooling o istruzione domiciliare con i suoi genitori come insegnanti Sheila e Clay hanno affermato che doveva essere ritirata immediatamente dalla scuola per via di un aggravarsi delle sue condizioni ma senza specificare altro quindi anche questo punto della vicenda sempre per via delle loro dichiarazioni è abbastanza confuso perché non abbiamo altre versioni raga cioè non c'è un qualcosa che attesti tutto questo sono le loro dichiarazioni ma comunque di per sé l'homeschooling non è un problema però deve essere applicato in maniera adatta specialmente nel caso di un adolescente la cui condizione a quanto pare era peggiorata che poi non si capisce molto bene perché in alcuni articoli ho letto cose come il suo autismo è peggiorato e in altri ansia sociale è peggiorata anche qui un po' di confusione fatto sta che tutte queste cose i suoi amici non le vedevano cioè anche questa cosa non la capisco e come vi dicevo nel caso in cui la condizione di Lacey fosse in qualche modo peggiorata i genitori avrebbero dovuto sì magari ritirarla da scuola ma prestarle le dovute attenzioni permetterle di coltivare i suoi hobby di vedere i suoi amici di seguire le sue passioni e invece hanno fatto tutto il contrario dal momento in cui è stata ritirata da scuola lei si è cominciato ad uscire sempre di meno e Sheila e Clay hanno smesso di parlare di lei ad amici e con cittadini non la menzionavano più in nessuna conversazione pensate che nel 2017 il padre di Robert Blade che si chiama anche lui Robert Blade per inciso Robert Blade era il figlio cioè allora Robert Blade il figlio di questo Robert Blade era il compagno di scuola di Lacey ok quello di cui vi parlavo prima ecco suo padre Robert Blade viveva poco distante dalla casa dei Fletcher e nel 2017 ha chiesto a Clay che fine avesse fatto Lacey perché ricordava che l'ultima volta che l'aveva vista era circa 10 o 15 anni prima un giorno a caso in cui lei era fuori a correre ed allenarsi con dei pesi dopo quella volta mai più vista quindi pensando si fosse trasferita eccetera ha chiesto a Clay il padre di Lacey e lui ha risposto ah no è ancora qui sta bene e poi ha subito cambiato discorso when was the last time that you saw Lacey I told you about 10-15 years ago I don't really remember exactly but a long time and what did she look like I don't know she just looked like a young woman she was uh she had these little what do you call the little weights that you hold in your hand the little dumbbells she was exercising yes she walked from her house she used to do that you know I don't know two or three times a week and when was the last time you mentioned that you'd spoken to Clay about five years ago and what did you ask him I asked him how's Lacey what's she up to I said you know I haven't seen her he said oh she still lives here she's doing fine it's very probable that when it happened the conversation between the two women Lacey she was already mobilized and entrapped in his bed in his bed the last time Clay and Sheila have talked about their daughter was in the 2010 pensate Lacey all'epoca in the 2010 she had 25 years and his parents were presented in the studio of Dr. Beacom without her to refer to that the girl she was always isolated more she didn't want to go out of the house and she didn't want she was absolutely to alzarsi dal divano Loro non sapevano cosa fare in base a questi sintomi descritti al dottore sembrava che Lacey stesse sviluppando in maniera piuttosto grave una forma di agorafobia improvvisa che sarebbe la fobia degli spazi aperti e inizialmente dei luoghi pubblici la sua forma più lieve si presenta come un'ansia sociale molto marcata e la persona che ne soffre non vuole trovarsi in luoghi in cui non si sente a proprio agio e che non considera sicuri specialmente in luoghi pubblici perché rispetto alle mura di casa possono essere diciamo imprevedibili cioè può succedere di tutto ma nelle forme più gravi chi ne soffre potrebbe non voler proprio lasciare la casa o addirittura la stanza o un letto o un divano dato che considerano questi luoghi gli unici al mondo ad essere sicuri uscire da questi spazi provocarebbe attacchi di panico molto forti insomma è una condizione davvero pericolosa che se non viene seguita e trattata al meglio può peggiorare e passare appunto dal disagio verso gli spazi aperti ansia anzi forte per gli spazi aperti al totale isolamento il cosiddetto posto sicuro può diventare sempre più piccolo col passare del tempo e col peggiorare della condizione e in base a ciò che hanno detto i Fletcher al dottore nel 2010 sembrava che lei si si trovasse in questa condizione ma ancora una volta non è sicuro non sappiamo se soffrisse di agorafobia non sappiamo nemmeno il reale motivo per cui è stata ritirata da scuola cioè ci sono informazioni date dai genitori ai processi ma come facciamo a sapere se sono la reale motivazione di tutto quanto molti per darsi una spiegazione hanno dato la colpa tra virgolette all'autismo dicendo che è per forza per quello che è stata ritirata da scuola ed è poi peggiorata fino a marcire sul divano ma l'autismo ragazzi cioè non funziona così non è che da un giorno all'altro cambia drasticamente improvvisamente peggiorando così una persona e soprattutto appunto non peggiora drasticamente senza controllo lei si era una ragazza vivace e attiva ma da un giorno all'altro ha smesso di fare sport questo non può essere a causa dell'autismo deve essere successo qualcosa dentro quelle mura e infatti devo ancora dirvi dei dettagli che fanno molto riflettere riguardo la situazione per ricapitolare in ordine cronologico lei si viene ritirata da scuola a 16 anni poi viene vista l'ultima volta dal vicino di casa Robert Blade mentre si allenava all'aperto nei primi anni del 2000 all'età di circa 25 anni poi i genitori vanno dal dottor Bcam per parlargli del fatto che non volesse lasciare il divano e a 27 anni cosa che ancora non vi ho detto lei si manda delle mail a dei suoi amici con dei link di film e video della disney a circa 30 anni poi Robert Blade chiede a Clay dove fosse lei si e lui dice che sta bene per poi cambiare subito argomento e 6 anni dopo lei si viene trovata morta fusa col suo divano a 36 anni dopo il suo ritrovamento i genitori non vengono subito trattenuti anzi non dichiarano nulla e vengono chiamati alla centrale di pulizia solo il 18 gennaio due settimane dopo il decesso lì Sheila comincia a dire qualcosa afferma che lei si soffriva di ansia sociale e aveva seguito un percorso con uno psicologo per 3 anni quando era adolescente utile cioè quindi 15 anni almeno prima che morisse vabbè dice poi che si rifiutava di alzarsi dal divano quindi quella di rimanere lì era una scelta sua personale e loro da buoni genitori hanno fatto del loro meglio per accontentarla quindi racconta gli agenti hanno messo lì vicino al divano una sorta di vc portatile che però come sapete per molto tempo non è stato utilizzato da Lacey e hanno anche posizionato in un luogo raggiungibile dalla ragazza degli asciugamani delle salviette del borotalco e un ricambio di vestiti accompagnati da una montagna dei film preferiti dalla ragazza tutto quello che Lacey doveva fare era alzarsi per utilizzare quegli oggetti ma non voleva dice Sheila continua dicendo che probabilmente era molto pigra quindi la donna ha dovuto mettere degli asciugamani sotto sua figlia in modo che li utilizzasse come vc e poi una volta sporchi li doveva pulire e portargliene degli altri tutto sempre per accontentare i desideri di sua figlia secondo le sue parole però era anche una questione forse di testardaggine ok non ti vuoi muovere allora io ti metto comunque tutto quello di cui hai bisogno lì però se non ti muovi sono cazzi tua eh non funziona proprio così se una persona sta male comunque continuiamo va mi sembra davvero cioè tanto assurdo quello che dice la donna subito agli agenti comunque continua dicendo che più avanti quando puliva lei sì anche quando cercava di pulirle le piaghe da decubito che chissà quando le sono venute lei non si è mai lamentata del dolore e dai ok può anche non essersi lamentata dal dolore ma se aveva le piaghe da decubito se aveva dei buchi infetti nella carne non ci va un genio per capire che stava soffrendo no comunque Sheila dice agli agenti che sua figlia aveva perso l'appetito più o meno durante l'autunno dell'anno precedente quindi nel 2021 più o meno verso ottobre quindi autunno novembre non lo so e dovete sapere che Sheila e Clay sono partiti per un viaggio a capodanno e sono tornati a casa solo il 2 gennaio giorno prima della sua morte ufficiale ecco Sheila dice che una volta tornati dal viaggio il 2 gennaio ha preparato a Lacey mezzo panino e un sacchetto di cheetos di patatine e lei le ha mangiate poi dice si è addormentata nella sedia in soggiorno accanto al divano di Lacey alle 22 quando sua figlia era sicuramente ancora viva ma io mi chiedo come ha fatto ad addormentarsi lì con quella puzza indescrivibile come facevano a vivere lì senza fare niente questo caso è davvero spiazzante allora al suo risveglio il mattino dopo Lacey era morta tutto questo è ciò che disse Sheila agli agenti ma molte cose da subito non tornano in seguito all'autopsia infatti si scopre che la ragazza non aveva mangiato nessun panino e né tantomeno delle cheetos nel suo stomaco trovano solo l'imbottitura del divano e feci ancora non sappiamo se abbia ingerito tutto ciò di sua spontanea volontà ora cerchiamo di farci un'idea delle sue condizioni perché il medico legale ha appunto affermato che Lacey era su quel divano da almeno 12 anni ovvero dal 2010 che è esattamente l'anno in cui i genitori sono andati da lui a riferirli che lei non voleva più alzarsi ora non sappiamo la data esatta di quando si è iniziata la negligenza quando abbiano smesso di dare da mangiare quando lei abbia iniziato a farsela addosso eccetera ma comunque quanto basta per ridurre il divano e Lacey in condizioni raccapriccianti l'esposizione prolungata ad urine e feci è molto dolorosa e può iniziare a far male alla pelle nel giro di poche ore i sintomi principali sono eruzioni cutanee che se non trattate in tempo possono degenerare e portare a febbre brividi e altre eruzioni cutanee in tutto il corpo le urine e le feci contengono ammoniaca che come sapete è molto corrosiva per la pelle se la pelle rimane a contatto con questa sostanza per lunghi periodi di tempo può causare irritazioni lesioni e persino ustioni già nel giro di un solo giorno se queste lesioni non vengono trattate la pelle inizia a gonfiarsi e poi aprirsi creando letteralmente delle ferite aperte molto dolorose e se ci sono ancora urine e feci a contatto con la ferita perché non sono state pulite si incorre un grandissimo rischio di infezione nel caso di lesi i suoi scarti ad un certo punto sono rimasti nelle sue zone intime senza venire puliti per tantissimo tempo causando tutto ciò che vi ho detto sia alle parti intime che alle gambe poi aveva anche le gambe incrociate per cui era proprio tutto intrappolato lì feci e urine nei cui componenti reagivano con la pelle viva della ragazza fino a farle venire gravissime infezioni locali e questo è solo l'inizio cioè quando tutto era ancora curabile abbastanza facilmente e pensate che anche senza urine e feci il rischio di infezioni e necrosi se si rimane fermi nella stessa posizione per troppo tempo è altissimo avete mai sentito parlare delle piaghe da decubito? queste si verificano quando c'è una pressione continua su una parte del corpo solitamente quando si sta seduti o sdraiati in un'unica posizione per un lungo periodo di tempo questa pressione interrompe l'afflusso di sangue in quell'area specifica che ha contatto con una superficie esterna causando infine la morte del tessuto circostante però entro due ore sì noi esseri umani siamo molto sensibili perché il tessuto interessato non riceve abbastanza ossigeno dato che l'afflusso del sangue viene bloccato e quindi anche solo due o tre ore sono abbastanza per avviare un processo pericoloso e dolorosissimo e no quando dormiamo non siamo a rischio perché ci muoviamo in continuazione anche un micro movimento basta per interrompere questa cosa qui è proprio se una parte del corpo rimane nella stessa identica posizione senza muoversi di un millimetro per troppo tempo anche appunto solo due o tre ore comincia questo processo di insomma dispiego adesso insomma se per qualche motivo non siete in grado di muovervi per delle ore o addirittura giorni quello che succederà è praticamente è terrificante ed è quello che è successo a Lacey all'inizio inizialmente comunque si formerà una macchia rossa nella pelle simile ad una scottatura sarà anche un po' calda al tatto e potrebbe prudere questo senza la presenza di fece niente soltanto rimanendo fermi nello stesso posto presto comunque questa macchia diventerà viola e se non trattata la pelle si aprirà lasciando la carne scoperta si formerà una ferita molto dolorosa che si infetterà quasi sicuramente sempre se non trattata e poi collasserà su se stessa formando come un cratere consumando la carne nei casi peggiori fino all'osso la pelle e la carne a tutti gli effetti muoiono questa condizione si può trattare ma è molto difficile e deve essere presa in tempo il modo migliore per affrontarlo ovviamente è la prevenzione ovvero muoversi anche pochissimo ma in continuazione una delle prime cose che imparano gli infermieri infatti è di girare i pazienti costretti a letto circa ogni due ore le piaghe da decubito sono anche per questo un segnale che può indicare una negligenza del personale nelle strutture sanitarie pensate che alcune di queste ferite anche se prese in tempo possono impiegare addirittura mesi o anni per guarire ma potrebbero non guarire mai potrebbero essere necessari interventi chirurgici insomma si tratta di lesioni molto pericolose da prendere piuttosto seriamente possono portare alla morte per infezione perché una volta infette possono portare alla sepsi ovvero il progressivo danno agli organi causato dalla risposta infiammatoria dell'organismo ad un'infezione scusate ma penso sia fondamentale almeno dare un'idea di tutte queste condizioni per farvi capire davvero il dolore che ha dovuto sopportare lei per farvi capire la gravità di ciò che le è successo lei infatti quasi sicuramente ha dovuto attraversare tutto questo con l'aggiunta della presenza delle sue stesse feci urine che non hanno fatto altro che accelerare il processo ma c'è un motivo se non è morta subito in seguito all'infezione tra un po' ci arriviamo quando lei si è stata ritrovata la sua carne nella parte inferiore del corpo specialmente sul sedere vicino alle parti intime era totalmente consumata e mangiata era come se non avesse né cosce né i glutei nella zona tra i glutei e la schiena si faceva fatica a capire quali parti della sua pelle fossero vive la sua carne in quella zona era decomposta marcia e mezza mangiata dai vermi e dalle larve dove si riusciva a distinguere della pelle umana normale tra virgolette era comunque completamente gialla tipico segno di infezione il resto era tutto in cancrena e tutto ciò si stava verificando mentre era viva l'unica piccolissima speranza in tutto ciò è che ad un certo punto le sue ferite fossero così profonde da aver distrutto le sue terminazioni nervose in quelle aree in questo modo dopo un po' lei non avrebbe più sentito il dolore non avrebbe più avuto la sensibilità anche la schiena e tutta la parte posteriore del suo corpo però erano in condizioni disastrose zone in cui sicuramente invece le terminazioni nervose erano intatte lì oltre alla pelle giallastra era ricoperta di chiazze rosse probabilmente altre piaghe che si stavano formando o che si sarebbero formate di lì a poco e quelle ferite non venivano mai pulite dai genitori che avrebbero dovuto prendersene cura invece erano i vermi a pulirla i bigattini cioè non so quale tipologia di vermi in particolare perché in tutti gli articoli che ho letto c'è scritto maggots che si traduce sia con vermi che con bigattini che con larve quindi ovviamente si trattava di larve ma non so se di mosca o cos'altro immagino di mosca comunque queste larve oddio strisciavano dentro di lei consumando la sua carne morta e consumando la sua carne morta diciamo che si sono rivelate importantissime per farla sopravvivere l'hanno letteralmente aiutata a non morire più dei suoi stessi genitori anche se immagino che è arrivata al punto di avere le larve dentro di sé a mangiarla mentre era ancora in vita probabilmente avrebbe solo voluto che finisse comunque mangiando la sua carne morta e infetta hanno impedito che l'infezione si propagasse facendola appunto morire di sepsi mangiavano la carne morta e lasciavano stare quella viva e tra molte virgolette in salute e lei si è rimasta in queste condizioni per chissà quanto tempo piccola parentesi a volte vengono utilizzate le larve anche negli ospedali per svolgere la stessa funzione ovvero mangiare la carne morta per evitare che l'infezione si propaghi comunque in prossimità del giorno della sua morte era rimasta senza acqua e cibo a portata di mano presumibilmente da un bel po' abbastanza da costringerla ad afferrare le uniche cose alla sua portata e mangiarle ovvero l'imbottitura del divano e le sue stesse feci ma ancora non sappiamo se effettivamente l'abbia fatto da solo o se sia stata obbligata a farlo e la seconda opzione è decisamente più inquietante comunque sicuramente non c'era alcuna traccia di quel panino e di quelle citos di cui parlava sua madre agli agenti e chissà quante altre cose sono successe in quei 12 anni lunghissimi potrebbero essere le accadute cose che a distanza di tempo non si sarebbero neanche potute vedere dall'autopsia ed è semplicemente terrificante pensarci il rapporto ufficiale dell'autopsia del dottor Beacom comunque afferma che Lacey alla fine è morta per via della sepsi causata da una grave negligenza medica e malnutrizione cronica Lacey quando è stata trovata aveva 36 anni e pesava solo 43 chili e mezzo sempre dall'autopsia si sono accertate le piaghe da decubito e un'infezione ossea che alla fine ha portato alla sepsi e alla morte Sheila Fletcher ha dichiarato di non aver mai portato Lacey dal dottore perché semplicemente lei non era mai stata malata no aveva solo dei buchi giganti nel corpo e si stava decomponendo da viva davanti ai tuoi occhi ma no Sheila non era malata no tranquilla perché portarla dal dottore comunque fatto sta che un giorno Lacey Fletcher si è seduta su quel divano che sia contro la sua volontà o meno e non si è più rialzata ma come cavolo è possibile perché come vi ho detto prima all'inizio si pensò alla sindrome del lockdown che venne riportata da tutti gli articoli online da testate giornalistiche molto importanti ma questa è solo una teoria una teoria che è stata poi smentita però rispondeva a tutte le domande sul caso in maniera piuttosto ragionevole per cui per molto tempo si è pensato fosse proprio così ma non lo era e molte persone pensano ancora adesso che sia così giustamente come vi ho accenato prima comunque Lacey ad un certo punto a circa 27 anni è stata in grado di scrivere delle mail ai suoi amici o almeno addettarle a qualcuno che le scrivesse per lei riusciva persino a nutrirsi da sola come constatato dall'autopsia cose assolutamente impossibili da fare se si è colpiti dalla sindrome del lockdown ma allora perché non si è semplicemente alzata da quel divano ci sono varie teorie che provano a spiegare questa domanda ma la verità purtroppo non possiamo conoscerla c'è la versione ufficiale che è venuta fuori al processo ma come quasi tutto in questo caso non è dimostrabile i genitori di Lacey si sono sempre dichiarati innocenti e infine a seguito di un patteggiamento sono stati condannati per omicidio colposo il 20 marzo del 2024 a 40 anni ciascuno anche se 20 di questi 40 anni sono sospesi in sostanza è ancora da decidere se dovranno scontarli oppure no in ogni caso sicuramente staranno dietro le sbarre per almeno 20 anni e considerando che entrambi hanno 65 anni nella migliore delle ipotesi per loro usciranno a 85 anni la versione dei genitori comunque è sempre stata una sola Lacey non voleva alzarsi da quel divano e loro l'hanno accontentata inizialmente prendendosi cura di lei e poi gradualmente trascurandola sempre di più in tutto questo tempo hanno sempre vissuto in quella casa che lentamente insieme al divano stava marcendo o almeno l'odore al suo interno era quello anche se era tutto perfettamente in ordine e anche qui perché? le dichiarazioni della difesa sostengono che i due amavano da morire Lacey e hanno fatto di tutto per renderla felice l'amavano talmente tanto da autoconvincersi che stesse bene e che loro fossero in grado di prendersene cura ora non ci sono molti altri dettagli ma in base a queste dichiarazioni sembra proprio che si siano costruiti una sorta di realtà alternativa in cui loro effettivamente si stavano prendendo cura di lei nella loro realtà nella loro mente quando hanno visto che però la situazione stava degenerando sono probabilmente entrati in uno stato di negazione così profondo da non far loro rendere conto di quello che stava realmente accadendo e quindi da non farli rendere conto del fatto che Lacey avesse bisogno di un aiuto esterno e non è neanche questione di soldi perché i due avrebbero potuto tranquillamente a livello economico far ricoverare Lacey in una struttura quando ancora era recuperabile peccato però che per qualche motivo sconosciuto non l'hanno fatto la difesa ha ovviamente provato a far passare Sheila e Clay come due persone per bene che hanno semplicemente sbagliato a pensare di essere in grado di prendersi cura di Lacey in realtà però motivo per cui sono stati poi condannati per un micidio colposo i due hanno totalmente ignorato il problema decidendo ogni giorno attivamente di non agire di non intervenire e di non aiutare la loro figlia hanno sbagliato ogni giorno permettendo che Lacey lentamente marcisse davanti ai loro occhi anche se fossero stati in questo stato di negazione costante comunque ovviamente per loro non è una giustificazione potevano pensare di fare del bene per la loro figlia ma nella realtà dei fatti la stavano distruggendo e ancora una volta ragazzi questa è la versione ufficiale ma è una situazione molto delicata perché non c'è modo di capire se sia andata effettivamente così se davvero loro fossero convinti di farle del bene queste sono solo le loro dichiarazioni non probabili né tantomeno confutabili il fatto comunque rimane la loro figlia è morta a causa della loro negligenza e quindi pagheranno tutta questa storia però nonostante il processo sia concluso lascia spazio a troppe domande per questo anche in corso dei vari processi sono state formulate diverse teorie che potrebbero spiegare cos'è effettivamente successo in quei 12 anni indipendentemente da come si è iniziata questa situazione i muscoli delle gambe di Lacey si sono atrofizzati piuttosto in fretta al punto di non permetterle più di alzarsi anche se avesse voluto quando si è seduta su quel divano sicuramente aveva le capacità per alzarsi ma dopo un po' sia che fosse per cause esterne che per una sua decisione questo non lo sappiamo i suoi muscoli si sono atrofizzati e questo ok completamente morti possiamo dire e hanno quindi iniziato a deteriorarsi bloccandola in quella posizione paralizzata almeno per quanto riguardava le gambe poi ovviamente escrementi urine piaghe eccetera non hanno fatto altro che accelerare il processo paralizzandola ulteriormente in quella posizione con le gambe incrociate una posizione ragazzi non comoda e che in effetti può bloccare la circolazione sanguigna se mantenuta per troppo tempo e quindi portare alle piaghe e a tutto il resto e arrivati a questo punto e rimaste in quella posizione per così tanto tempo anche solo il fatto di alzarsi avrebbe potuto ucciderla anche se i genitori l'avessero alzata di forza dal divano lei sarebbe morta in una condizione di pressione costante in una data area del corpo il potassio comincia ad accumularsi proprio lì e se la pressione viene tolta improvvisamente da quella zona tutto quel potassio si immette direttamente nel flusso sanguigno in grandi quantità risultato un attacco di cuore e probabilmente la morte quindi una volta arrivati ad un certo punto la sua situazione era delicatissima per chissà quanto tempo ha vissuto sul filo di un rasoio tra la vita e la morte ma allora perché quando le sue gambe hanno iniziato ad addormentarsi lei non si è mossa di un millimetro perché ha lasciato morire i suoi muscoli ovviamente a quel punto non era in grado di decidere se volesse aiuto o meno e lei secondo le dichiarazioni dei genitori rifiutava ogni tipo di aiuto o supporto medico ma era chiaro che ne avesse bisogno tenete questa cosa a mente in ogni caso ci sono due teorie molto valide che ho trovato online o c'era una ragione mentale per cui lei si non voleva alzarsi o muoversi proprio all'inizio quando ancora era in grado di muoversi oppure sempre all'inizio è stata legata e immobilizzata in quella posizione da qualcuno i suoi genitori fino a quando le gambe non si sono atrofizzate una volta atrofizzate il gioco era fatto e ornale sarebbe rimasta lì per sempre prendendo in considerazione la prima teoria anche se fosse stata lei si è a decidere di non muoversi il fatto che Sheila e Clay non abbiano fatto nulla per aiutarle è comunque gravissimo e secondo questa teoria che preparatevi vi farà incazzare ma è molto verosimile lei si ha sviluppato un'agorafobia talmente grave da farle credere che potesse essere al sicuro solo non muovendosi su quel divano e i suoi genitori non sapendo come gestire la situazione hanno pensato che lei si fosse semplicemente pigra e non volesse socializzare tutto quindi sarebbe iniziato come un problema di testardaggine i genitori hanno pensato che se lei non voleva alzarsi dal divano allora loro non si sarebbero presi cura di lei ah si non ti vuoi alzare e allora io non ti do le cure che dovrebbero spettarti così facendo pensavano prima o poi lei si sarebbe alzata ma alla fine la situazione è degenerata e loro hanno sviluppato un senso di negazione e rifiuto della situazione iniziando a credere che il problema non esistesse teoria comunque molto buona nei confronti di Clay e Sheila l'altra teoria verosimile però è decisamente peggiore e altrettanto plausibile e sostiene che all'inizio i genitori hanno legato e immobilizzato lei si fino a quando li si sono atrofizzati i muscoli e l'abbiano quindi torturata sia fisicamente che mentalmente anche con piccolissime razioni di cibo per anni strano però che all'età di 27 anni lei si è riuscita a scrivere delle mail ai suoi amici che hanno dichiarato che dalle mail sembrava proprio lei o che comunque le avesse dettate parola per parola a qualcuno se i suoi la stavano torturando e nascondendo in casa sicuramente non le avrebbero permesso di contattare nessuno eppure lei l'ha fatto però 8 anni prima della sua morte quindi in tutto quel tempo in realtà potrebbe essere successo letteralmente di tutto e la teoria delle torture nel fatto che le avessero legate eccetera spiegherebbe il motivo per cui i genitori hanno smesso di parlare di lei a chiunque della cittadina facendo finta che non esistesse le altre teorie non lo spiegano tantissimo si è un stato di negazione lo spiega però questo lo spiega meglio secondo altre persone online magari lei si non riusciva a spiegare che stava soffrendo perché alcune persone autistiche hanno difficoltà a spiegare quando provano dolore o spiegare esattamente quanto dolore provano non sapevano come e quando agire anche fosse vero però ragazzi non giustificherebbe la loro negligenza cioè ma poi questa cosa si applica per lo più a dolori interni e non visibili cioè nel caso di lei si era chiaro e alla luce del sole che ad un certo punto la sua carne stava marcendo io vi giuro quindi anche se non fosse riuscita a spiegare il suo dolore era palese secondo altre persone a lei si potrebbe essere in sorta una schizofrenia con l'avanzare dell'età condizioni che le avrebbe causato delle allucinazioni che la terrorizzavano e la costringevano bloccata immobile nel divano altra cosa inspiegabile però è che i genitori le davano da mangiare anche se magari a sufficienza e probabilmente le lavavano i denti perché aveva tutti i denti anteriori al momento della morte quindi come possono due genitori prendersi cura dei denti della figlia e mantenerla in vita dandole da mangiare anche se poco e al tempo stesso non fare niente per la sua carne in putrefazione forse davvero erano in un potente stato di negazione e rifiuto della realtà forse davvero fino alla fine hanno creduto che lei fosse solo pigra e quindi per ripicca per farle passare la pigrizia le hanno lasciato tutto lo corrente a portata di mano ma senza prendersi effettivamente cura di lei asciugamani cambio vestiti film anche un vc portatile erano lì se solo lei si fosse alzata e li avesse utilizzati ma i genitori non l'avrebbero aiutata doveva farlo da sola per superare la sua pigrizia nella loro testa secondo quest'altra teoria ma ancora una volta sono solo teorie fa proprio incazzare sapere che non c'è una risposta certa insomma potremmo continuare a discutere all'infinito pensando a cosa può essere accaduto alla povera Lacey ma la verità è che probabilmente non lo sapremo mai l'unica cosa certa sono le condizioni disumane in cui è stata ritrovata e quindi altra cosa certa i suoi genitori passeranno probabilmente il resto della loro vita dietro le sbarre il fatto che tutti pensassero fosse affetta dalla sindrome del lockdown dava in qualche modo una spiegazione al tutto ma sapere che non era affatto così apre le strade a varie spiegazioni come avete visto una più inquietante dell'altra Lacey Fletcher ha passato un lungo periodo in quelle condizioni circondata solo dai suoi stessi escrementi e dalle persone che avrebbero dovuto prendersi cura di lei ma che invece l'hanno totalmente trascurata questo è il peggior caso di negligenza medica che ha portato un'innocente ragazza che aveva solo bisogno di aiuto a perdere la vita tra atroci sofferenze non avevo mai sentito una storia come questa e pensare che non abbiamo le risposte definitive fa davvero rabbia perché come possiamo credere alle dichiarazioni dei genitori sembra tutto così surreale oggi sono sicuro che ognuno di voi si sarà formato un'idea di cosa può essere davvero successo quindi fatemi sapere qui sotto le vostre teorie e i vostri pensieri per lei si intanto ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che non lo so sono troppo contento non vedevo davvero l'ora ci ho lavorato per tanto tempo anche per quello non sono riuscito a fare spesso due video a settimana lo sapete finalmente è finita lo posso dire è uscito il libro è uscito il libro comunque dai vi dicevo che vi anticipo a voi pochi che rimanete fino a qui che presto vi parlerò di una persona che apparentemente era simile a noi le piaceva il true crime ma aveva anche una passione per i serial killer spero quindi che rimarrete nei varaggi se vi incuriositi non dimenticatevi di iscrivervi al canale e adesso parlo con te si proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare dopo il caso di oggi è veramente strano che tu non ti sia stancato ti consiglio questa storia dai brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei oggi più che mai e niente vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao 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 ciao